No Presidente, domanda molto semplice, si candiderà alle europee e sempre sulle europee nel caso si profilasse come pare dalle proiezioni attuali una nuova maggioranza come quella attuale, una maggioranza cosiddetta Ursula, è pronta a sostenerla o resterà all'opposizione in Europa? Allora guardi, sul tema della candidatura all'europea è una decisione che non ho ancora preso, come lei sa io sono persona per la quale niente conta di più che sapere di avere il consenso dei cittadini, per cui tutte le volte che io ho avuto l'occasione di misurarmi col consenso dei cittadini l'ho fatto. E anche ora che sono Presidente del Consiglio, secondo me misurarsi con il consenso dei cittadini sarebbe a maggior ragione una cosa utile e interessante. Né mi convince la tesi di chi dice che candidarsi all'europea sarebbe una presa in giro dei cittadini perché poi ci si dimette e non si va in Europa, i cittadini che ti votano lo sanno che poi non andrai in Europa, ma se vogliono confermarti il tuo consenso anche questa è democrazia. Penso anche che una mia eventuale candidatura potrebbe forse portare anche altri leader a fare la stessa scelta, penso nell'opposizione e potrebbe anche diventare un test di altissimo livello, quindi un test democratico molto interessante. La ragione per la quale a fronte di queste valutazioni che l'ho fatto, che farebbero propendere per un sì, io non l'ho ancora deciso, è che devo capire se una mia eventuale candidatura personale toglierebbe tempo al mio lavoro da Presidente del Consiglio, più del tempo che chiaramente sarà comunque necessario per fare la campagna elettorale e delle elezioni europee che tutti faremo. E perché penso anche che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza e abbiamo stabilito che l'avremmo presa insieme. Per quello che riguarda il tema della cosiddetta maggioranza Ursula, lei sa che io lavoro per costruire una maggioranza alternativa, che tra l'altro negli ultimi mesi ha dimostrato di poter esistere su alcuni dossier, penso a alcune materie legate alla transizione verde, penso a alcune materie legate all'immigrazione.